salve a tutti ragazzi eccoci con un altro video con un altro contributo questa volta vogliamo fare chiarezza una volta per tutte sulla situazione finanziaria del club del closing e della cessione del milan da elliot dal fondo elliot al fondo americano redbird capital di jerry cardinale com'è la situazione facciamo il punto facciamo un po di chiarezza perché fino ad ora avevamo tutti una certa convinzione ovvero che elliot rimanesse all'interno del milan con delle quote di minoranza questa era un po la convinzione di tutti anche perché rileggendo poi il comunicato del primo di giugno si parla appunto di una partecipazione di minoranza del di elliot nel club ma questa partecipazione di elliot non fa riferimento alle quote del del club quindi in teoria nel momento in cui ci sarà il closing da elliot a redbird capital praticamente credo nel giro di un mesetto quindi ci stiamo avvicinando sempre di più alla data che era stata indicata come agli inizi di settembre o comunque durante il mese di settembre jerry cardinale con redbird capital acquisirà il cento per cento delle quote azioni a zona azionarie del milan quote azionarie del milan cosa vuol dire che sarà interamente jerry cardinale il proprietario del club rossonero quella partecipazione minima di elliot riguarda invece una partecipazione finanziaria perché perché elliot farà un prestito a redbird per l'acquisizione del club ma uscirà fuori dalle quote del del milan quindi sarà interamente il club di jerry cardinale sarà interamente il milan di redbird capital questa è un po la novità che abbiamo potuto capire a facendo determinati approfondimenti nella nella giornata di oggi questa mattina perché alcune cose insomma dovevano essere dovevano essere chiarite da quello che appunto abbiamo appurato e che il milan verrà ceduto interamente a livello di quote societarie da elliot a jerry cardinale il cento per cento quindi elliot non manterrà alcuna quota zero quote all'interno del milan ci sarà però una partecipazione di diciamo di minoranza per quanto riguarda invece accordi finanziari e questa la sottigliezza e questa la particolarità questi accordi prevedono appunto che elliot fornisca una certa somma di denaro si parla addirittura fino a 600 milioni di euro per finanziare appunto redbird capital e jerry cardinale che restituirà questi soldi nell'arco del tempo con un tasso di interesse del 7 per cento quindi un tasso di interesse comunque accettabile se si considera che all'interno ad esempio della cessione dell'inter a octre il tasso di interesse supera il 10 per cento quindi insomma è sicuramente un tasso di interesse più 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 importante più cospicuo rispetto a quello che sta prestando elliot a redbird ci sarà comunque una partnership tra i due fondi nel senso che comunque elliot rimarrà all'interno del milan con due membri del cda probabilmente uno e gordon singer l'altro potrebbe essere appunto giorgio furlani che attualmente il portfolio manager appunto di elliot e quindi si andrà avanti con le due proprietà che lavoreranno per il milan ma il vero proprietario sarà solo ed esclusivamente jerry cardinale con il cento per cento delle quote poi ci saranno ovviamente quelle quote minime rappresentate dal dai piccoli azionisti che comunque restano all'interno della società e questo giusto per fare un po di chiarezza perché fino ad ora avevamo sempre pensato immaginato che elliot mantenesse delle quote di minoranza si parlava vi ricordate del 30 per cento 70 redbird e 30 elliot non è così il cento per cento sarà del di redbird capital e solamente sarà una partecipazione finanziaria con un contratto tra i due fondi americani ma praticamente elliot poi col tempo comincerà ad uscire di scena questo spiega anche tante cose sul calciomercato perché molti dicono come mai il mio non ha speso tanto come mai il mio campione d'italia aveva comunque un budget abbastanza limitato attorno ai 45 50 milioni di euro perché questo mercato è stato l'ultimo mercato di elliot elliot ha messo lui il fondo elliot dei singer i soldi il budget per questo mercato e solamente dopo il closing sarà totalmente un mercato gestito da jerry cardinale che comunque inserirà all'interno del consiglio di amministrazione dei propri membri dei propri rappresentanti mentre rimarranno comunque dei rappresentanti elliot perché ricordiamo che elliot sta prestando comunque dei soldi a jerry cardinale per l'acquisizione dell'intero club ricordiamo la cifra sarà una cifra di un miliardo e 200 milioni di euro quindi il milan verrà venduto da elliot a jerry cardinale di redbird capital per un miliardo e 200 milioni jerry cardinale sta attuando il vendor loan cioè sta cercando comunque diciamo le ultime parti di soldi per arrivare appunto a un miliardo e 200 milioni una parte viene messa appunto dalla sua società la redbird capital un'altra parte verrà finanziato dal venditore in questo caso da elliot con un tasso di interesse del 7% so che sono argomenti che magari non a tutti piacciono però mi sembra giusto fare chiarezza un attimo anche sulla situazione finanziaria della proprietà si parla sempre del mercato molti chiedono perché questo mercato non ha visto il milan investire tanti soldi e perché l'ultimo mercato di elliot che sta per vendere il 100% delle quote a redbird e di conseguenza prima di fare investimenti faraonici ha voluto un attimo mantenere lo status quo ha voluto un attimo mantenere ecco un freno agli acquisti che comunque sono stati fatti non stiamo parlando di un mercato a zero stiamo parlando di un mercato in cui elliot ha messo sul piatto un'altra cinquantina di milioni i famosi 35 bonus compresi di decetelare i riscatti di florenzi e messias l'acquisizione a breve di un altro mediano perché comunque verrà acquistato un altro mediano e anche alcune operazioni per esempio i soldi per lo stipendio di Adli e di Orighi verranno comunque messi a bilancio è vero che non ci sarà più lo stipendio di Chessi è vero che non ci sarà più lo stipendio molto alto di Romagnoli ma vi ho sempre detto che questa è un'estate molto particolare non è un'estate normale è l'estate della cessione del Milan e non più della cessione del 70% delle quote bensì del 100% delle quote e se questo è stato l'ultimo mercato di Elliot si capiscono un po' di cose si capisce perché non c'è stato un investimento ancora più elevato dal punto di vista della spesa sul mercato però ripeto il Milan ha fatto 45-50 milioni di investimento senza fare cessione in Serie A poche squadre ci riescono soprattutto prendendo giocatori come decetelare che sono il futuro del calcio europeo e il futuro del Milan vedremo come sarà il mercato di Gerry Cardinale quando arriverà al Milan da quello che abbiamo percepito ricalcherà il modus operandi di Elliot quindi saranno comunque campagne acquisti abbastanza centellinate io credo che difficilmente vedremo investimenti da 150 milioni da 100 milioni saranno campagne acquisti che aumenteranno sul mercato a livello di investimenti qualora ci saranno aumenti anche dei ricavi man mano che aumentano i ricavi aumenteranno anche gli investimenti sul mercato è tutto proporzionato non ci saranno passi più lunghi della gamba se il Milan comincerà ad ottenere ancora più soldi con i ricavi non solo per i diritti televisivi ma anche con il marketing con lo stadio, con la vendita delle magliette con tutto quello che gli sponsor, le partnership tutto questo aumenta il circolo virtuoso e di conseguenza il Milan avrà più soldi da poter investire sul mercato è un meccanismo che si è innescato da un paio d'anni e che ora sta andando sempre meglio vediamo con l'arrivo di Jerry Cardinale con il closing a inizio settembre o comunque diciamo così per stare un po' più larghi durante il mese di settembre cosa cambierà, cosa succederà ma io credo che la strada comunque sia stata tracciata la novità o meglio la chiarezza resta il fatto che sarà venduto tutte le quote a Redbird Capital di Jerry Cardinale e Elliot non manterrà delle quote del Milan sarà 100% Jerry Cardinale il proprietario del club rossonero grazie a tutti grazie a tutti